E ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale interdipendente, mi presento io sono Matteo Ragazzi, oggi sono qui per portarvi delle nuove news che mi sono arrivate appunto dal mio gruppo whatsapp di fiducia Il Bicione Nerazzurro, appunto questa notizia è stata data da Leo Genna Questa notizia tra l'altro che, quante volte ripeto, mamma mia, un genio ragazzi L'italiano correggiuto sempre perché non fa mai male Allora, questa notizia mi è arrivata ieri sera, adesso vi, intorno alle 10 comunque qua vi dovrebbe apparire la schermata del messaggio Quindi mi sposto leggermente, se no Allora, questa notizia mi è arrivata appunto ieri sera e guardate caso mi arriva un messaggio stamattina, eccolo qui Che, appunto, sempre dallo stesso Leo Genna in cui dice al gruppo in generale Che è arrivata questa notizia sui principali siti di calcio, calciomercato più o meno E sui giornali appunto questa notizia qua, appunto di Simeone all'Inter Cosa è successo nel tardo pomeriggio di ieri? Appunto ci sono stati contati tra Zhang e l'agente di Simeone Che avrebbe dato la disponibilità ad allenare, a liberarsi dall'atletico ad allenare l'Inter Dal prossimo maggio, quindi dal maggio 2019 Poi vi dico i miei pensieri su questa notizia Simeone, in caso dovesse venire all'Inter vorrebbe portarsi dietro appunto Griezmann Anzi, l'ordinato proprio, non è che... No, vabbè, comunque vorrebbe portarsi dietro Griezmann Zhang ha dato l'ok da quanto almeno si è capito da questa notizia Che poi non è niente di ufficiale o così Però sono comunque rumors del calciomercato, comunque reali E appunto Simeone si toglierebbe un po' di stipendio Per appunto permettere all'Inter di pagare quello di Griezmann A parte che ci credo questa notizia perché quello che dice Leo avviene sempre Quindi, ragazzi, ovviamente come ho già detto non c'è niente di ufficiale Però ragazzi, io devo ammettere che non mi dispiacerebbe un altro anno di Spalletti Sinceramente, anche dopo tutti gli errori che sta facendo ultimamente Anche è un grande allenatore secondo me Certo che il ciolo è il ciolo per noi e se deve accadere accadrà No, si dice così Però comunque non mi dispiace Spalletti a me Anche se l'ultima volta nel post partita l'ho insultato Perché ero un cavolato nero a differenza di altri Però lasciate perdere ragazzi Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate questo sotto nei commenti Mi raccomando un bel pollicione in su E ci vediamo allo prossimo video Sempre e comunque Forza Inter